Il dottor Wolfgang Sparbe ritira il premio, il vice sindaco, architetto Lusso. È importante il premio proprio anche per dare un riconoscimento e visibilità al comune che investe e crede in politica ambientale, in green economy, sapendo che chi investe nella green economy non vi è un ritorno immediato, ma un ritorno nel tempo. Quindi sicuramente anche i risultati da un punto di vista ambientale e economici si vedranno tra qualche anno. Quindi non è solo per spot politici che uno fa o partecipa per vincere i premi. Poi vedo anche che la commissione è stata molto seria, ho visto analizzato bene il progetto anche perché ha anche ben nel suo giudizio analizzato ciò che le nostre... quello che abbiamo fatto, che abbiamo iniziato già da una decina di anni. Quindi questo è importante, 52 edifici comunali che con uno screening, una diagnosi energetica si è potuto programmare negli anni un loro miglioramento e non un decadimento delle loro prestazioni. E quindi un risparmio in alcuni casi fino al 50% sul gas e sull'illuminazione elettrica. Grazie. Grazie.